La regione campana racconta la forza dei propri territori, noi stiamo delineando una sorta di modello vitivinicolo campano che parte dalla forza dei vidigni autottoni, che parte dai territori, noi siamo una regione forse tra le più attrattive dal punto di vista turistico e stiamo cercando di fare grande sinergia tra la qualità delle nostre produzioni vitivinicole e anche produzioni agroalimentari e ovviamente i nostri assets fondamentali dal punto di vista del paesaggio, dei beni culturali, della cultura. VinItaly è una grande vetrina internazionale nella quale finalmente quest'anno la campagna è protagonista.